In che cosa consiste il suo lavoro e dove lo svolge? Io sono ricercatore Politecnico di Torino. Il mio lavoro si riferisce allo studio del comportamento dei fiumi, sia da un punto di vista teorico che sperimentale. Lavoro abbastanza anche in laboratorio, quindi mi occupo di in qualche modo simulare quello che è il comportamento di un fiume reale, chiaramente in scala. Quindi costruendo in laboratorio dei piccoli modelli che riproducono la realtà e il comportamento fisico, meccanico dei fiumi e l'interazione con ponti, sponde e quant'altro. In sostanza lavoro con l'acqua e con i sedimenti. Quando e perché ha deciso di dedicarsi alla scienza? Lo rifarebbe? È una domanda a cui bisogna rispondere in termini graduali. Prima battuta scegliendo una certa facoltà, quella di ingegneria al Politecnico di Torino. Dopo dedicandomi allo studio in maniera più attiva forse che passiva, approfondendo forse anche talvolta certe cose che non mi vengono chieste. E poi con la scelta del dottorato e via dicendo, sempre di più in maniera sempre più profonda. Se lo rifarei assolutamente sì, perché mi sono e mi sto divertendo tanto. Perché hai deciso di partecipare a Scienza Attiva? Perché è un progetto interessante, perché alla base della conoscenza e della cultura scientifica e non, c'è la divulgazione e la comunicazione. Alla base dell'ignoranza c'è la mancata comunicazione e i frantendimenti anche in tal senso. Quindi è bene, secondo me, portare una certa conoscenza e divulgarla in qualche modo, in maniera più accessibile possibile, anche nei confronti dei ragazzi, anzi soprattutto perché loro sono il nostro futuro in tutti i sensi. Che cos'è l'acqua per lei? È difficile rispondere. L'acqua è un elemento fondamentale in cui noi viviamo, con il quale quotidianamente abbiamo a che fare, e che detta il futuro e anche il presente della nostra vita molto di più di quanto immaginiamo. Può essere una risorsa, sicuramente una risorsa, può essere anche un pericolo, può quindi portare del bene, può anche portare del male. Sicuramente è un elemento col quale si può anche giocare molto e divertirsi molto. Nel 2008 ha vinto il premio Torricelli come miglior giovane ricercatore in idraulica. Per quali lavori? Sì, sono lavori relativi all'idraulica fluviale, quindi il comportamento dei fiumi, in particolare il ruolo che hanno le variazioni delle portate, cioè il fatto che la portata di un fiume non è costante, il flusso di un fiume non è costante, ma noi lo sappiamo, è soggetto a delle piene e delle magre, e come questo poteva influenzare, può influenzare la crescita della vegetazione lungo le sponde o il comportamento dei sedimenti in genere. L'idraulica fluviale è in classe, può suggerire qualche piccolo esperimento? Sì, io suggerirei un esperimento di idraulica fluviale fuori dalla classe, in quanto i fiumi non sono in classe, a meno che appunto uno non provi a riprodurli con un'apparecchiatura di laboratorio, generalmente infattibile all'interno di una scuola superiore, ma direi fuori dalla classe vuol dire portare i ragazzi in campo, provare a vedere con un certo occhio e studiare i fenomeni che si possono osservare su un fiume e provare a interpretarli, provare a fare delle misure, provare a vedere che cos'è il fiume e soprattutto rendersi conto che non è un fenomeno statico, ma in continua evoluzione, è più dinamico di quanto possiamo immaginarci. Ha un aneddoto da raccontarci relativo al suo lavoro in laboratorio? Sì, mi è capitato una volta durante un'esercitazione con degli studenti, premetto che le esercitazioni con gli studenti universitari non sono mai facili, soprattutto quando c'è un leggero distacco di età tra docente e studente, di appunto una risultazione pratica in cui si provava a vedere come il livello di un fiume sale, e questo veniva fatto in una canaletta in laboratorio, e preso dalla descrizione teorica non mi sono reso conto che a un certo punto il livello del fiume è salito fin troppo e gli studenti avevano già i piedi a mollo. Per fortuna me l'hanno fatto notare in qualche modo, diciamo, a modo loro. Diciamo, è stato molto simpatico, non proprio divertente dal mio punto di vista, forse per loro sicuramente. Se dovesse descrivere il suo lavoro, che aggettivi userebbe? Ne userei uno solo, creativo, in quanto il lavoro di ricercatore è un lavoro che non va da nessuna parte se non c'è un minimo di, anche nell'ambito del mondo scientifico, un minimo di creatività, cioè capire quali sono i problemi reali e delle possibili soluzioni. Non inventarsi problemi, chiaramente, ma andare a cercarli, e per fare questo ci vuole un po' di inventiva a volte, e di immaginazione. E poi vedere, eventualmente, se ci sono e provare a trovare delle soluzioni.